sound beauty sound beauty ma è partito tutto a caso regà Gianmarco è faker non lo so vogliamo cambiare la mappa la prossima è complicatissima shif shifter ahhh ci trasformeremo in sbiron fame oleee no povero ci amo basta allora o hai mister killer o hai self reward no è successo un fatto stavo da sotto a fare il telefono vedo sbiron fame sbozzato e poi vedo dalla coda verso il corridoio del coso del labirinto d'ostelettrica un altro sbiron fame che corre ah quindi lo sbiron fame che stava arrivando verso di me era uno sbiron fame fake eh non so di si perchè io l'ho visto mentre stavo a riportare stavano verso il corridoio d'elettrica io sono il grande scienziato pazzo io ho controllato letteralmente quattro secondi fa se fosse morto qualcuno e non era morto nessuno allora possiamo shiftare però non ha senso perchè ci hanno visto tutti stanno tutti letteralmente a sinistra rischiamo di fare un disastro subatomico chiuderli qui mandare via non le luci ma questo ci vedo ti vedo un pezzo di merda uh eh no tutti due non lo so e niente stava in cucina e l'unico che ho visto all'intorno è Dima uuuu ma come? mi ha visto possa che ho fatto Dima in realtà ha fatto con me il Però però non so più Cioè io ho visto che ho comp... Non sono mai stato sto round io in cucina E anche lui l'ho visto L'idea reattore eravamo io Dima e Powa Alla fine sì Alla fine del reattore sì No io ero già lì Sì sì vabbè io sono arrivato dopo C'era un Dima in cucina Non ero io non sono mai stato in cucina sto round Dobbiamo rendere la situazione Verosimile Cioè tipo Luca è qua vabbè adesso Luca sarà Sta giocando molto bene perchè parla e parla bene Dima è lì Non so A destra Eh tu entro a destra Io ho una roba che Posso aver accelato io Però io sto guardando le cam E ho visto Diego che usciva dalla stanza lì dove stanno le... A sinistra ho fatto il manichino Eh però non ti ho mai visto entrare Cioè ti ho visto uscire ma non ti ho mai visto entrare in quella stanza Sono entrato appena erano state disattivate le luci A Diego ti ho fatto un Cristiano Ronaldo che secondo me ancora sta a cercare il pallone Sta a cercare... No io ti ho seguito perchè mi fido di te Sì 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 Non lo so Cioè qualcuno ti ha protetto Io lo sai Io comunque... Io sono pulito Io mi fido solo di Zona in questa partita Mamma mia questa situazione è proprio tipo... Ti prego non farmi votare salvami Questa mi sta dato di una paraculata Mi sta volando Diego Sì Mi sta volando Diego Siamo macchiati di un crimine Ero innocente Dice di essere innocente Amo perso per... Amo perso per... Amo perso per... L'anno... Pro word Ok Nooo Dì ma no È lui È lui È lui È lui Ma tu mi hai preso da otto chilometri E ragazzi prima Deluxe si è trasformato davanti a me Io potevo botolare Sono scappato via a cercare la botola Lui stava lontanissimo Mi ha ucciso E l'avevo sgamato Stiamo volando di adesso E se vince il game subito È tuo Giammo Olè Olè Microphone muted Doppia Ma cosa cazzo Ma questo Ma questo Questo è proprio lui All'inizio All'inizio Inizio Inizio Dima Dima Patris Dima Patris Dima Patris Dima Patris Dima Patris Oh cazzo Era madonna Da una quindicina Dei secondi Boni Conta sulla porta Una porta Buggata Che non riuscivo Né ad aprire Né a reportare Mancavano All'appello Comunque mancavano Patris e Zugu Do stavi Zugu Do stavi Zugu Do stavi Zugu Reattore sto facendo Il memory Io comunque ero adesso A tutte le tasche d'estero Reattore è fatto La memoria Si si Ma Ma che sta a dire Il memory C'è il memory Quello brutto Quello che c'è La mamma e mezzo Story Il memory L'unica L'unica tasca Che mi ricordo Sono queste Si fa così Guarda 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 Si fa così Allora Il boss Il boss finale È questo Allora Il boss finale È entrare Dentro una stanza Smorfato Uscire Cioè Chiudere le porte Usare la botola Così ti vedono E uscire Che cosa strana Questo mi pare In self report Grosso Come un casone Secolare Ma Diego Ma perché sei Sempre in mezzo A queste chiamate Strane Tra l'altro C'era anche Sbiro Che ha preso Una botola Se non sbaglio No io ho fatto La cosa Io ho preso Semplicemente 5-6 No tu hai preso La botola Tu sei l'ingegnere Giammo Non dire puttanate Io ho fatto Il coso su Matt Bay E poi sono uscito E mi aveva visto Titti Che ovviamente Gli hanno tagliato Sei uscito da dove Sei uscito da dove Giammo Sono uscito da Matt Bay No no Tu hai preso la botola T'ho visto palesemente No raga Io ho visto Io ho visto un blu Che ha preso la botola L'ho visto entrare Matt Bay E è uscito dietro a mia telecamera Gianmarco Mi spiego Telecamere Telecamere Non ci sono Mai passata No ora era Il Io ho visto Luca arrivere da sinistra E ho visto Sbiro in Electrical Vabbè per sta kill Io ho visto Sbiro Penso 4-5 volte Uscita 18 botole diverse Questa Portiplicazione Di corpi No Io sono stato Dove ho mai visto Mo Perché io stavo Solo a sinistra Sono sceso Ovunque T'ho vista a me T'ho visto A telecamere T'ho vista E quindi Scusate Non è un ingegnere Avete visto Prendere 16 botole Vedevo dire una cosa Vedevo dire una cosa Sono ingegnere Sono ingegnere davvero Sono ingegnere No Sono davvero ingegnere Che prego No Oddio Oddio ho salvato Il vero Mi giuro Mi hai fatto Lo da mattino No Non me fate Fuori Porca Troia Ora Diego Mi vede entrare Diego mi deve vedere Entrare come Zano Ok Ok Aiuto 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 Ho una traccia Ho una traccia Ho una traccia Ho una traccia Ma frate Io so tutto Però prima vi faccio parlare La Zano La moltiplicazione degli Zani Io ho capito perché c'erano due Vero già Allora vi giuro Avevo Zano con me Zano tra virgolette Zano con me In storage Ed è entrato in electrical Comparso No c'erano due Zani Frate La mississima Il doppio Zano Uno non può essere Luca Luca e Patris Erano Erano In admin tipo Quindi o Diego O Delu Adesso ero in electrical Con chi? Con lo Zano Che non era Zano A Diego Ma so 40 minuti Che stai A lui A lui Dica Vabbè ragazzi Siamo in 6 però O Diego O Ispettore C'è poco Come faccio Essere io che ho visto L'altro Zano Ma perché Pua Lo stiamo a scaggio Ma scusate Ma non è la vata Esatto Non c'era qualcuno Che poteva testimonire Per qualcun altro Patris era con Luca Io ero con Cioè gli unici da soli Stavamo io e Diego E Sbiro Eravamo in tre Eravamo in tre Da solo Silurare 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 Ma che cazzo Vabbè Votare subito Ma perché io Ma perché eri in elettrica L'hai preso Botta L'hai fatto il cazzo che hai fatto Diego perché io tutte le volte Io credo che questo sia un errore Io credo che questo sia un errore Azzipua Prima stava in cazzo E poi si è fermato sotto telecamere Perché stava Voleva l'alibi No porco Perché non hanno chiamato Perché non hanno chiamato reattore Perché probabilmente uno Forse Perché uno allora era giusto Mai dire mai Però esatto Mai dire mai Comunque Per me Per me La kill di prima Ragazzi Ascoltatemi un secondo Zano Erano due Zani Luca era con Patris Io ero con Sbiro Gli unici da soli erano O Diego O Espettore Brutto da dire Però Diego è stato fatto fuori Io butterei anche fuori Vabbè per la legge della nave Sì ci sta Solo perché eravate da soli Tu avrete Ma raga Adesso potete fare il sacrificio Quindi è super fattibile Io stavo in comms Lui Onestamente Probabilisticamente parlando Lui era in electrical Cioè Zano dove è morto Zano è morto in Mad Bay Praticamente Ho capito Electrical in Mad Bay Sono collegato alla botola No 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 Zano Io per arrivare Ma Sono crashato You disconnected from the server Since I fixed the remote Is not responding to Esatto Proprio quello Proprio quello No Luca no Ma no Ragazzi penso che C'erano Raga Era Zano che rincorre Zano Allora ragazzi La scena bellissima Mi rincorre Sì sì ero io Io che rincorro Cree Passano attraverso Diego e No che era l'altro Ero io Ero io E Giammo Stesso e Giammo Appena vedono che ci sono due Zano Dicono aspetta ma Qui c'è qualcosa che non va E' come Azzurro No ma Sì No ma Sì